cos'è successo interisti cos'è successo interisti vuoi che qui siete sempre lì a romperci i coglioni che è successo stasera mi hanno purgato due pappine e a casa eh sì cari miei di bala l'abbiamo venduto da roma e mi ha purgato come facciamo eh sto qui a parlare 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 a gioventus allegra tre cose cari come avete in panchina forse uno peggio di galleghe fidatevi stasera a roma due pappine e a casa fino alla fine forza io